Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti con questo nuovo video, io sono Vincenzo, oggi giocheremo a Brawl Stars, giocheremo a Raid Giona Rossa che forse non ci hanno giocato, vabbè comunque andremo con il nostro bellissimo frutto, perché avete visto sempre con il suo lezione in deserto della luna con il, vabbè, spacca il culo, vabbè solo questo che lo voglio, spacca il culo. Vabbè andremo run, non troveremo gente run, buono pure questo, lo voglio, e scegli, lo so, ho già fatto, oggi è morto, se dico che sono gente da, almeno grado 18, sono gente da grado 2, però da grado 18, vedete ragazzi, cazzo, vedete alcune, se ne ho fatto aventi nulla, e nab chi, un po' sotto nab, vabbè un po' sotto nab, quindi da qui non ti devo colpire, capisco che quando non mi viene spalleato vabbè vado a via lo c'è basta vedo che si mette quella un pò mi tocchi bravo tana leva tana leva circa la parte è arrivato un boccio è un po' che si voleva colpire le pallotte ho fatto una bacca bassa bacca come spara ora ok mi sta sentendo questo è il 49% vabbè vaga qua dentro non ho come se dove ho messo per forza pure thumb e che thumb pure ho fatto è bit però ho fatto è lento è molto lento no metti davanti niente raga se vi iniziamo questa raid dovete mettere mi piace e iscrivervi al canale quelli mi vedete anche il video non lo so perché vabbè faccio vedere niente sceglie a namba devo smicurare un attimo colpo colpo è bravo intanto il sceglie mi proviene a carro io sono morto una volta il sceglie è morto tipo 5 volte ecco il sceglie è proprio buono non ci vedo sto con sceglie oh l'ho schifato bravo bravo fa il giro giro con me giro giro con me giro giro con me il sceglie sono una merda raga facciamo il gioco se abbiamo vinto bobo 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 vediamo quanti giocano in da prenta mi sembra prenta andiamo a ritrovare una cassa giusto se troviamo l'abilità stellare ma quando mai ho aperto 75 cassa l'altra volta mi sembra la trentesima avevo sbloccato le cose là per le pomme è bullo e ancora non l'ho provato adesso per un'altra cassa che ragazza come se buttete come se buttete come se buttete vedete ragazzi vediamo di questo nuovo video fate un bacio bene per cantare di video io sono no perché è perfetto perché è perfetto è perfetto l'ultima finita e mi dico no io sono sono un robottino orpettino e vabbè l'ultima è perfetto è perfetto l'ultima è perfetto proprio capito che adesso si fa il più danno ma mi dico non si fa il più danno è perfetto Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 ehi, magari chiediamo nooo ah, bravo pibbi con l'estito dalla bomba del tuo amico oh, madonna mia, voglio fare le cose belle, ma non ci riesco nooo, passa, 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 passa PASSA ma che abbiamo avuto? let's get it boys facciamocene un'altra, no, sono grintosa oggi oh, sono grintosa, shoot, ma per piano bravo, cool barb Tony Quario il beat di Johnny pure quello che è buh, buh, buh buh, buh oh, ma lei va più da una bomba ma che boi fa ma che boi fa, Mr. Pin non è mi fortino mi fortino mi fortino bella donna panelle Non ci riesco a fare le cose belle Che cazzo faccio a fare le cose belle Ma porca droga Venga io non devo mai più uccidere nella mia vita Perché sennò ucciderò qualcuno della Supercell Sennò ucciderò RAYAN Ma sto figlio di puttana KANO Vabbè ciao